Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Sony ha appena annunciato i titoli che andranno a comporre l'offerta dei giochi della Instant Game Collection di dicembre per gli abbonati al PlayStation Plus. Come è successo per l'Xbox e i suoi Games with Gold, la chiusura dell'anno è tutt'altro che pirotecnica sotto questo punto di vista, ma se non altro possiamo iniziare ad ipotizzare quale sarà il futuro di questi servizi all'interno degli ecosistemi che si andranno ad affermare durante il ciclo vitale di PS5 e Serie X. Prima di iniziare però vi ricordo che in previsione del Black Friday abbiamo lanciato un canale Telegram dove raccogliere e tenere traccia di tutte le offerte relative al mondo dei videogiochi. Mi raccomando, unitevi per essere sicuri di non lasciarvi sfuggire le migliori offerte. Vi lascio il link in descrizione. Partiamo! Per il mese di dicembre Sony ha reso disponibile gratis per gli abbonati al PlayStation Plus tre giochi. Si tratta di Just Cause 4, Rocket Arena e Worms Rumble. Just Cause 4 è l'ultima incarnazione del frenetico open world di Avalanche Studios. Pubblicato nel 2018 purtroppo è un episodio decisamente sottotono che mostra tutta la stanchezza che la serie si porta appresso ormai da anni. Rocket Arena è uno sparatutto online in terza persona 3x3 che di certo non brilla per originalità, già dal nome, né per mole contenutistica, mentre Worms Rumble segna l'approdo della celebre serie di strategici atturni nel mondo dei Battle Royale, il genere sicuramente più in voga degli ultimi anni. L'offerta non è certo entusiasmante, non che dalle parti di Xbox le cose vadano tanto meglio, anzi. A dicembre infatti gli abbonati al Gold potranno scaricare gratuitamente quattro titoli, due nativi su Xbox One, ovvero The Raven Remastered The Bleed 2, mentre per i restanti, Saints Row e Stacking, si parla di prodotti Xbox 360 emulati tramite retrocompatibilità. Inutile dire che anche questa selezione è abbastanza anonima e non spicca certo per qualità, nonostante Microsoft ci tenga a sottolineare che il valore complessivo dell'offerta sia di ben 75 dollari e 3200 punti di gamerscore. A mio avviso è ovvio che l'offerta dei giochi gratuiti abbia perso la centralità nelle politiche di Microsoft e Sony e non sia più l'incentivo principale utilizzato per giustificare il prezzo dell'abbonamento online. Per l'ecosistema Xbox è chiaro ormai che la casa di Redmond stia puntando tutto sul Game Pass. L'ipotizzare è che nel corso degli anni questo diventerà la principale e unica offerta di Microsoft, arrivando ad inglobare tutti gli altri servizi accessori. In fondo il Game Pass Ultimate è già la soluzione definitiva alla frammentazione dei vari abbonamenti e per poco più di 12 euro mensili consente di avere non solo il Game Pass su PC e console ma anche il Gold per giocare online, l'XCloud per il gaming in streaming ed anche EA Play ormai accorpato all'interno del Pass. La situazione da parte di Sony è molto più complessa ma possiamo osservare un trend molto interessante. Warm Strumble sarà giunto al Plus nel giorno stesso della sua uscita sul mercato, una strategia che non vediamo per la prima volta. Ad esempio era già successa in passato per Fall Guys che si è rivelato essere il fenomeno multiplayer dell'estate ma anche per Bugsnax, il primo titolo per PS5 ad essere inserito immediatamente all'interno della Instant Game Collection. Non dimentichiamoci poi che con l'arrivo della PS5 ha fatto la sua comparsa la Plus Collection, ovvero un catalogo stabile e non mensile che offre una sorta di biglietto di benvenuto a tutti i possessori della nuova console abbonati al Plus, offrendo una selezione di 20 titoli PS4 da scaricare gratuitamente. La Collection e l'aggiunta di titoli inediti di minore entità potrebbero confluire in un unico modello a metà strada tra il Game Pass e il Nintendo Switch Online, proponendo così un catalogo ricco di recenti glorie e di piacevoli titoli indie. Con un PS Now che fatica di fare l'ennesima selezione di poco impatto adottata per il Plus di dicembre, penso che anche Sony stia preparando la sua utenza, passo dopo passo, ad un cambiamento radicale. E credo che l'utenza potrebbe apprezzare molto un catalogo corposo ma stabile, piuttosto che il rinnovo mensile di un'offerta che generalmente lascia gran parte degli utenti con l'amaro in bocca. Ma sono curioso soprattutto di sapere cosa ne pensate voi? Credete che il Plus e il Gold siano ancora dei valori aggiunti indispensabili per giustificare il costo degli abbonamenti online? Oppure con l'avvento del Game Pass e servizi simili non fate più affidamento a queste selezioni mensili? Come al solito vi aspetto nei commenti e prima di salutarci vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Poro Gold, Michele Plus, ciao!